L'avvocato si innamora follemente della signora Ulissi, la donna che rappresenta in una causa di divorzio. Incapace di levarsela dalla testa, una notte comincia a mormarare il sonno. Ti amo Maria, voglio sposarti non appena riesco ad ottenere il divorzio. Svegliandosi di soprassalto e raccorgendosi di avere gli occhi furiosi della moglie addosso, esclama ad alta voce. Iiezione vostro onore, chiedo che l'amante della signora venga fatta uscire dall'aula. Grazie a tutti.